Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito Hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Una sfida carica di adrenalina, da un lato i giallorossi sanniti che viaggiano col vento in poppa in classifica, dall'altro gli irpini costretti a risalire la china per puntare alla salvezza, a cominciare da questa partita. Non una come le altre, se i 400 tifosi assistono agli allenamenti per caricare il gruppo bianco-verde. Non commetteremo il passo falso di sottovalutare gli avversari, dichiara intanto Mister Baroni, dalla possibile fusione tra capoluoghi, archiviata nei cassetti della burocrazia all'italiana, alle unioni di fatto di territori vicini e omogenei che hanno già un unico sindacato, che prossimamente avranno un'unica camera di commercio e che nel corso della storia si sono contesi benefici politici, accusandosi ora l'uno ora l'altro di scippi oltraggi, le supremazie storiche vantate nella lotta contro i romani, fino ai giorni nostri, dove Avellino e Benevento potrebbero essere nella prossima legge elettorale bacino unico per il rinnovo del Parlamento. Una sfida sottile e continua che dal campo esce fuori e arriva alle amministrazioni. Telenostra e Prima TV, oltre a seguire da vicino con interviste e immagini esclusive il match, hanno voluto giocarlo fuori dal campo. Abbiamo ascoltato e messo a confronto i due capoluoghi e le due province. Foti contro Mastella, gamba corta contro Ricci, interviste doppie per parlare di Avellino Benevento, del match, delle difficoltà comuni e delle buone pratiche per superarle. Stasera al termine del Tg, lo speciale, Irpini-Sanniti, la sfida continua. Avellino Benevento, chi vince? Spero l'Avellino. Spero il Benevento. Sindaco, un messaggio ai tifosi della sua città? Ma siate sempre gli splendidi tifosi, corretti, corretti, che avete dimostrato di essere in tutti i campi d'Italia e quindi anche in casa. Accogliamo i tifosi di Sanniti con dei cori di sfottò al massimo, ma non più di tanto. Ma ragazzi, siamo tutti quanti domani là, moltissimi, ma credo tanti, qualcun altro vorrebbe arrivare, ma non riesce ad arrivare, si vinca o si perde, bisogna continuare perché il Benevento sta facendo uno splendido campionato.